Esistono differenti tipologie di cavi Ethernet, basta fare una ricerca generica su Amazon per rendersi conto che esistono cavi Ethernet categoria 5, categoria 6, categoria 7, 8 e via discorrendo. E' chiaro che laddove esiste una nomenclatura identificata da numeri progressivi, se non si sa che cosa significano quelle sigle, si tende a fare una scelta d'acquisto su quello con il numero più alto. Senza però rendersi conto che spesso si stanno solo buttando via soldi. In questo video quindi vediamo come sono fatti i cavi Ethernet, cosa significano quelle sigle, quali sono le differenze e come si può identificare il tipo di cavo adatto per i nostri scopi. La costruzione fisica basilare dei cavi Ethernet è identica per tutti, cioè sono costituiti da 4 coppie di piccoli cavi intrecciati tra loro che terminano nei classici connettori di rete chiamati RG45, che espongono le estremità degli otto cavetti interni per fisicamente connettere i dispositivi. Tuttavia possono esistere molte differenze tra i singoli cavi, a partire dal materiale utilizzato per i cavetti interni, che può essere in rame o anche possono essere solo placati rame, come i cavi CCA, sigla che sta per Copper Clad Aluminium. Quindi un conduttore in alluminio placato rame dal costo produttivo inferiore, prezzo di vendita più basso, ma ovviamente prestazioni inferiori. L'altra grande differenza riguarda le soluzioni adottate per schermare i cavi dalle interferenze esterne. Le coppie di cavi intrecciati possono essere coperti da un isolamento in alluminio, tutto il cavo può avere un ulteriore isolamento e anche il polimero plastico utilizzato per raggruppare tutti i cavi può essere più o meno spesso. Addirittura l'intrecciamento stesso dei cavi è necessario per evitare interferenze e più intrecciamenti ci sono sulla stessa unità di lunghezza, più il cavo è meno suscettibile a interferenze. Bisogna ricordare che più vengono utilizzate queste soluzioni di schermatura necessarie per poter offrire prestazioni più elevate, più il cavo sarà spesso e meno flessibile. Questa caratteristica è da ricordare se ad esempio avete necessità di inserire il cavo all'interno di un muro di una casa, dove certo il maggior isolamento può tornare utile, ma sarà più difficoltoso farlo passare. Ecco, dopo questa infarinatura iniziale, come dire, abbiamo già capito che le caratteristiche da considerare nella scelta di un cavo di rete sono molte, ci sono un sacco di variabili e tutto quanto, vi ho appena detto, non viene scritto sulla confezione di vendita o specificato da un venditore. Bensì l'unica indicazione che viene data è la categoria, cioè quel cat seguito da un numero. E per nostra fortuna è sufficiente per permetterci di fare le nostre scelte. Il motivo l'ho citato tra le righe poco fa. A mano a mano che si sale di categoria, un cavo deve essere in grado di offrire prestazioni superiori e per farlo deve essere costruito in maniera tale da essere qualitativamente superiore e quindi ciò significa utilizzare i materiali migliori, delle schermature migliori, più attorcigliamenti per centimetro lineare, eccetera eccetera. Ora parliamo delle prestazioni. Tenete però solamente a questo punto quanto vi ho detto poco fa. Più il cavo è di categoria superiore, mediamente è più pesante, è più grosso, è più spesso, è meno flessibile. Quindi se dovete fare installazioni complicate è ancora più importante scegliere il cavo più adatto alle prestazioni che volete senza puntare così, senza motivo, a quello di categoria più alta. Insomma, il pensiero prendo più performante così non avrò problemi, anche se è vero non è mai la scelta migliore. Prestazioni. Ci sono due parametri che identificano le prestazioni di un cavo Ethernet. I megabit o gigabit e i megahertz o gigahertz. Le due misure, queste due misure sono correlate, ma non direttamente. Quando viene espressa la velocità in termini di gigabit, ad esempio cavo da 10 gigabit per secondo, questo sta a indicare che è possibile trasferire dati su quel cavo alla massima velocità di 10 gigabit per secondo, cioè un gigabyte di dati al secondo. Un cavo in grado di offrire questa velocità massima può essere un cavo, un CAT6, che lavora a 250 megahertz e anche un CAT6 che lavora al doppio della frecualizzazione a 500 megahertz. Quindi perché quello da 500 megahertz non permette di andare oltre il gigabyte anche se la frequenza è doppia? Cerchiamo di capire il concetto di frequenza nei cavi di rete. La frequenza di per sé è la velocità con cui un segnale elettrico, in questo caso, può cambiare stato. Siamo nel campo dell'informatica, quindi il cambio di stato è da 0 a 1 a 1 a 0. Questo cambio di stato in termini di segnale elettrico è definito dal cambio di tensione, ma non complichiamoci le cose. Gestire una frequenza più alta significa poter offrire quelle prestazioni indicate con un livello di affidabilità superiore e soprattutto su distanze superiori. Vi faccio un esempio e come ogni volta chiedo ai più esperti di essere gentili con il mio modo di semplificare, devo farlo per questione di divulgazione. Immaginate differenti cavi che lavorano a differenti frequenze come dei tubi in cui scorre dell'acqua e più la frequenza è alta, più il tubo sarà grande. È possibile trasferire la stessa quantità di acqua in un tubo più piccolo. Tuttavia per farlo l'acqua dovrà scorrere più velocemente e la pressione all'interno del tubo sarà superiore, con il rischio che prima o poi potrebbe rompersi. Scoppiare per la troppa pressione. Ecco, nel caso di cavi di rete al posto dell'acqua abbiamo dell'elettricità e non succederà che un cavo di rete esploderà a un certo punto, ma il corrispettivo del tubo d'acqua che esplode è la perdita di pacchetti dati nella comunicazione, che porta quindi a una scorretta comunicazione, quindi non trasferisce in maniera corretta i dati. La conclusione qui è che più lontano volete trasportare i dati e più la quantità di dati è elevata, maggiore dovrà essere lo standard del cavo di rete che sceglierete. I livelli di categoria vi permettono proprio di effettuare questa scelta, quindi vi assicurano che sulla distanza di 100 metri voi avrete la certezza di poter trasferire quella quantità di dati senza problemi, senza perdita di pacchetti, quindi una trasmissione di dati corretta. Di contro, per fare un esempio estremo, voi potreste anche utilizzare un cavo Ethernet CAT 5e, certificato per trasferimenti alla massima velocità di 1 gigabit per secondo. Lo potrete usare per trasferire dati a 10 gigabit per secondo. E funziona veramente, ma la distanza a cui potrete trasferirli, quindi la lunghezza del cavo, potrà essere solo di pochi metri. Quindi capito ora il ruolo dei megahertz nei cavi di rete, che sono correlati alla velocità, ma piuttosto è un identificativo di sicurezza, di qualità di trasferimento, soprattutto sulle lunghe distanze. Cerchiamo di capire quale cavo usare per il tipo di applicazione di cui avete bisogno. Intanto definiamo la base, che per i cavi di oggi è la categoria CAT 5e, e quella IPRE significa semplicemente enhanced, cioè migliorata. Si tratta di un cavo gigabit e a meno che non abbiate apparecchiature che per qualche motivo necessitano di una velocità superiore al gigabit, per le applicazioni nelle nostre case, quindi per collegare il computer al router o a cablare casa, questa categoria è più che sufficiente, cioè non avete bisogno di più. Alcuni dicono che in realtà è meglio usare i cavi CAT 6 o CAT 6A, e quella A sta per augmented, cioè letteralmente aumentata, insomma anche in questo caso una versione migliorata dei CAT 6, che lavora a frequenza più alta. Solitamente viene detto che questi cavi sono in grado di offrire prestazioni superiori, cosa che tuttavia non è propriamente vera, e soprattutto si dice anche che sono in grado di portare segnali su distanza maggiore, cosa che anche in questo caso non è vera. Di fatto i cavi CAT 6 sono più grandi, quindi quello che è vero è che la qualità del segnale e il potenziale insomma del cavo è superiore. Il mio suggerimento in questo caso è che i CAT 6 possono essere tranquillamente usati in una soluzione casalinga, nel momento in cui si vuole avere una tranquillità superiore in termini di cablaggio di una casa grande e si vuole evitare potenziali interferenze. Pensateci però perché se non siete in una soluzione limite non ha senso usare un cavo più grosso e costoso, magari anche più difficile da posare, considerando che poi non offre un reale vantaggio. Le categorie superiori oggi esistenti, come i CAT 7, CAT 7A e CAT 8, hanno caratteristiche in grado di trasferire dati a velocità dai 40 ai 100 gigabit per secondo su distanze ridotte. Nello specifico i CAT 7 arrivano ai 100 gigabit per secondo entro i 15 metri, i CAT 7A hanno le stesse caratteristiche ma con frequenza superiore e ad esempio sono in grado di gestire i 40 gigabit per secondo su 50 metri, quindi una distanza più lunga, mentre i CAT 8 offrono prestazioni simili ma gestiscono frequenze fino ai 2 gigahertz. Avete capito che parlare di queste categorie superiori in realtà non ha molto senso per tutti noi. Le applicazioni casalinghe che necessitano di tali velocità di trasferimento sono inesistenti, anche in termini di reti locali, quindi scollegati in un certo senso dalla velocità di connessioni internet oggi esistenti. Nonostante questo, in commercio esistono molti cavi per uso casalingo basati su questi ultimi standard. Guardate sempre su Amazon, trovate categoria 7, categoria 8 e trovate anche recensioni del tipo ho comprato questo cavo CAT 8 per cambiare quello vecchio presente nel modem e sono passato da una velocità inferiore ai 100 megabit per secondo a quasi un gigabit al secondo, quindi è altamente consigliato. Ecco, in realtà non serve a niente un cavo da 40 gigabit per secondo se tanto poi non si va oltre il gigabit per secondo perché un CAT 5e è più che sufficiente. Se il cavo compreso con il modem è un modello che non va oltre i 100 megabit per secondo basta spendere un euro per un cavo CAT 5e di un paio di metri e non 10 euro per un CAT 8 che comunque non vi offre nulla di più se non un costo superiore. Ho fatto questo esempio, ripeto, perché vedo proprio che sono situazioni reali. Ci sono tante recensioni su Amazon e altri shop con prodotti del genere e recensioni del genere, ma in realtà si sono buttati via un sacco di soldi per prendere quei cavi senza avere un reale vantaggio. È vero, si parla di cavi che mediamente costano una decina di euro quindi non è una spesa folle però lo stesso risultato si può avere con un cavo da un euro. Bene, d'ora in poi dovreste sapere qualcosa di più dei cavi Ethernet e fare investimenti migliori. Mi fermo qui con questo video che è il primo comunque di questo argomento. Se ci sono altri aspetti, domande o suggerimenti su argomenti correlati o approfondimenti che vorrete suggerirmi fatelo scrivendo qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!